Forlener 2011, seconda edizione del premio innovazione, siamo qui con il signor Tarello, titolare della ditta CRM, che ci presenta la macchina che ha presentato a questo concorso. Allora, la macchina è un prototipo, innanzitutto, destinato a un uso civile, non a riscaldamenti di grandi potenze, è costruito in maniera che si può lasciare all'esterno, quindi non servono i coveri aggiuntivi per il prodotto, è costituito da un macinatore, un cipatore della parte anteriore, protetto anch'esso da elementi atmosferici, con le sue protezioni. Il legname viene introdotto direttamente dall'operatore, non con macchinari o gru o altri generi, appunto perché è destinato a un'utenza piccola e niente, il prodotto viene inserito nel cipatore di una concezione nuova, come sistema di taglio, il prodotto direttamente viene introdotto nel locale di stoccaggio, del macchinario e poi a questo punto si può andare nelle parti della caldaia, non serve più il trattore come movimenti e altro genere, l'apparecchiatura di scarico viene alimentata elettricamente, non ci sono altri... può dialogare direttamente con la caldaia, lo scaricamento, oppure manuale. Ecco signor Tarello ci spieghi un attimo la capienza del rimorchio? Questo modello qua sono 5 metri cubi. Ecco e la velocità poi per caricare il serbatoio della caldaia, orientativamente a una velocità? Il caricamento dipende dalla caldaia e dalla richiesta che ha, invece il caricamento, lo riempimento del vano qua dipende dalla pezzatura del materiale, in genere intorno ai 30-40 minuti, un'ora dipende se uno ha... Che diametro massimo riesce a lavorare? La macchina lavora dai 3 ai 20 centimetri. Questo modello è da qua. Ok, benissimo. L'assorbimento di potenza è medio, dipende sempre anche del tipo, della qualità del legname, legno secco principalmente, perché non dà problemi di fermentazione o altre cose all'interno. Il vano qua è reggiato e... Ecco la peculiarità invece dell'organo di taglio ci spiegava che non sono dei coltelli ma sono... Sono dei... sono dei tubetti praticamente. Dei tondelli lavorati... Certo, affilati in una certa maniera che danno quella caratteristica prodotto diversa, non ci sono scaglie praticamente all'interno del prodotto e le caldaie di piccola potenza che hanno passaggi ridotti di coche e tutto quanto non dà problemi. Signor Torelli io la ringrazio e le faccio un in bocca al lupo per il premio. Speriamo. Arrivederci.